Siamo tutti, lei esco, si alza il suo culo e se ne va! Guardi, lei è una madre incazzata, l'ha mai vista? Non l'ha mai vista? Sua madre il culo non gliel'ha mai fatto probabilmente, se sta qua seduta. Si alzi! Si alzi che devo andare da mio figlio, lei si alzi! Facciamo liberare prima questo tracco qua. Centrale, l'incrocio è stato liberato, adesso li vittoriamo a vista, proprio perché è la propria. Pascherina, tagliati! Chiama, eh? Guardi che noi stiamo assentando tutte le persone. Bravo, brava, brava! Complimenti, perché tu non sai quello che fai voi! Sei ancora troppo giovane! Nessuno te la spiegava! Grazie!